Ciao a tutti, oggi vi parlerò di un prodotto che è quasi indispensabile averlo in casa perché è un, possiamo definirlo, un olio SOS per qualsiasi problematica perché va ad agire non solo a livello proprio di circolazione e dunque andare a stimolare proprio la circolazione però è un potente anche antinfiammatorio vi sto parlando dell'olio il Relief Oil della linea Waven di Prodeco Pharma al suo interno questo olio che è piccolino da 30 ml per cui facilmente trasportabile anche in viaggio boccettina in vetro scura, ha la pipetta per cui è facilmente anche dosabile, ve lo faccio vedere e va proprio dosato a gocce, si può mettere all'interno di una crema ad esempio oppure da utilizzare direttamente così al suo interno troviamo dei principi attivi vegetali tra cui l'olio essenziale, l'olio di canapa l'olio di canapa, l'olio vegetale di canapa, non essenziale scusate l'olio vegetale di canapa ha un'azione antinfiammatoria perché va ad agire anche con altri principi al suo interno tra cui quello di arnica, l'olio di tamano, l'olio di dentisco è un potente antinfiammatorio per cui si può applicare a diversissimi utilizzi perché si può applicare su vene capillari fragili direttamente anche sulla zona quando abbiamo una vena un po' più sporgente rispetto ad un'altra si può mettere direttamente sopra oppure anche con un gel di aloe oppure una crema sempre specifica per la circolazione delle gambe magari con effetto fresco in estate si può mettere insieme perché va ad aumentare proprio la circolazione dunque va a migliorare il flusso sanguigno si sente infatti un po' pizzicare subito perché ha proprio problemi di circolazione si può utilizzare direttamente in caso di emorroidi perché comunque è un'infiammazione di quella zona particolarmente vascularizzata dunque ottimo in caso proprio di infiammazioni anche intime si può utilizzare a livello di dolori a livello muscolare articolare insieme a creme sempre antinfiammatorie antidolorifiche oppure direttamente puro sempre per alleviare tensioni localizzate spalle, testa, schiena e altri punti del nostro corpo che fanno male ma si può dare anche sulle cicatrici smagliature, cicatrici, sulle smagliature quando sono ancora rosse magari si pizzicano un po' sopra dopo la doccia che allora la pelle è ancora più morbida e facilita appunto la penetrazione di principi attivi si pizzica un po' sopra con l'olio e va a cicatrizarla e anche in caso di cicatrici cicatrici ancora proprio fresche quando sono ancora un po' rosse evita proprio l'adesione nei tessuti sottostante dunque tessuto cicatriziale si può massaggiare sempre a pizzicare un po' un paio di volte al giorno soprattutto appunto dopo la doccia magari si bagna un po' la pelle con l'acqua un po' tiepida ad ammorbidirla un po' si pizzica sopra proprio per evitare l'adesione dunque produce questo scollamento nei tessuti sottostanti dunque è un olio che si può utilizzare per tantissime proprietà Relief Oil della linea Prodeco Pharma Waven